sabato 15 luglio 1944 carachitti abbiamo avuto dalla biblioteca un libro dal titolo che pensate della ragazza moderna oggi vorrei parlare di questo argomento l'autrice critica da cima a fondo la gioventù d'oggi senza tuttavia contennarla del tutto come buona a nulla anzi è piuttosto d'opinione che la gioventù se volesse potrebbe costruire un mondo più grande più bello e migliore essa ne ha i mezzi ma si occupa di frivolezze senza degnare di uno sguardo le cose veramente belle in alcuni passi avevo l'impressione che la scrittrice riferisse a me i suoi biasimi e perciò voglio finalmente aprirmi con te e difendermi da questo attacco nel mio carattere c'è un tratto molto spiccato che colpisce tutti coloro che hanno dimestichezza con me la conoscenza che io ho di me stessa in tutti i miei atti io posso studiarmi come se io fossi una stranea io mi pongo di fronte all'anna di tutti i giorni senza prevenzione e senza scuse e osservo ciò che essa fa di bene e ciò che fa di male questo senso di me stessa non mi abbandona mai e non appena ho pronunciato una parola so subito se ho parlato bene o se avrei dovuto parlare diversamente mi condanno in innumerevoli cose e sempre più mi convinco che è giusta la massima di papà ogni bambino deve educare se stesso i genitori non possono dare che consigli è un buon indirizzo ma tutto sommato ciascuno deve fare da sé il proprio carattere a ciò si aggiunga che ho un coraggio e una vitalità fuori del comune che mi sento sempre così forte e pronta a sopportare qualunque cosa così libera e giovane quando me ne accorsi per la prima volta ne fui felice perché non credo che piegherò facilmente sotto i colpi a cui nessuno sfugge ma di queste cose ho già troppo sovente parlato ora vorrei venire al capitolo papà e mamma non mi capiscono mio padre e mia madre mi hanno sempre molto viziata sono stati molto cari con me mi hanno difesa e hanno fatto tutto ciò che possono fare i genitori eppure mi sono sentita a lungo terribilmente sola esclusa abbandonata e incompresa il babbo fece tutto il possibile per temperare il mio impeto ribelle ma non c'era niente che servisse mi sono guarita da me studiando quello che c'era di errato nella mia condotta perché dunque il babbo non mi è mai stato di appoggio nella mia lotta perché è sempre fallito quando ha voluto offrirmi una mano soccorritrice il babbo non ha seguito la via giusta mi ha sempre parlato come si parla a una bimba che deve superare una difficile fase dell'infanzia ciò suona strano perché il babbo è l'unico che mi abbia sempre accordato la sua confidenza e dato la sensazione di essere una ragazza intelligente ma ha trascurato una cosa cioè non si è accorto che la mia lotta per emergere era per me l'essenziale non volevo sentir parlare di fenomeni dell'età di altre ragazze di cose che passano da sé volevo essere trattata non da ragazza come tutte le altre ma da anna così com'è pim non lo capiva d'altronde io non so accordare la mia confidenza a chi non mi racconta molto di sé e siccome conosco pochissimo di pim non posso entrare in intimità con lui pim assume sempre l'atteggiamento del vecchio genitore che ha avuto anche lui a suo tempo simili passeggeri inclinazioni ma per quanto si sforzi non può riviverle con me come amico queste cose mi hanno indotto a non comunicare le mie vedute sulla vita e le mie ben ponderate teorie ad altri che al mio diario e una volta sola margò al babbo ho tenuto nascosto tutto ciò che riguardava il mio intimo non l'ho mai fatto partecipare alle mie idee e l'ho volutamente e coscientemente estraniato da me non potevo fare altrimenti ho sempre agito secondo il mio sentimento ma ho agito nel modo migliore per la mia pace interiore da che riperderai completamente la pace e la fiducia in me stessa costruite a fatica e ancor tanto instabili se ora dovessi subire delle critiche alla mia opera ancora incompiuta e non le tollererei nemmeno da pim per quanto ciò sembri duro perché non soltanto l'ho tenuto all'oscuro della mia vita intima ma spesso l'ho respinto ancora più lontano da me con la mia scontrosità questo è un punto a cui penso molto per quale ragione pim mi infastidisce tanto perché non posso quasi studiare con lui le sue carezze mi sembrano affettate perché voglio essere lasciata in pace e preferirei che egli non si curasse di me fino a quando mi sentissi più sicura di fronte a lui la ragione è questa che io ancora mi rodo dal rimorso per quella brutta lettera che ho osato scrivergli in un momento di esaltazione oh com'è difficile essere davvero forti e coraggiosi sotto ogni aspetto eppure non è stata questa la mia peggiore delusione assai più che per il babbo mi preoccupo di peter so benissimo che sono stata io a conquistare lui e non lui a conquistare me mi sono creata una sua immagine secondo i miei sogni ho visto in lui un caro ragazzo tranquillo sensibile bisognoso di affetto e di amicizia avevo necessità di un essere vivente con cui sfogarmi di un amico che mi aiutasse a rimettermi in carrezzata sono riuscita nel mio difficile intento e lentamente ma sicuramente l'ho attratto a me quando infine l'ho indotto a sentimenti amichevoli verso di me siamo giunti senza accorsersene a intimità che ora ripensandoci mi paiono inaudite abbiamo parlato delle cose più scabrose ma finora abbiamo sempre taciuto delle cose di cui era ed è pieno il mio cuore non sono ancora riuscito a capire se peter è un superficiale o se è timidezza quella che lo trattiene anche di fronte a me ma a parte questo ho commesso un errore escludendo tutte le altre possibilità di stringere amicizia e cercando di avvicinarmi a lui con le intimità è bramoso d'amore ed è ogni giorno più innamorato me ne accorgo bene a lui i nostri incontri bastano e me acquiscono soltanto il desiderio di ritentare la ricerca di un terreno d'intesa con lui eppure non riesco a toccare gli argomenti che vorrei chiarire ho attirato a me peter con la forza più di quanto egli non si renda conto ora egli si afferra a me e per il momento non vedo alcun mezzo che serva a staccarlo da me e a rimetterlo in piedi quando infatti ho capito che egli non poteva essere per me un amico come lo intendo io ho perlomeno tentato di sollevarlo dalla sua meschinità e di farlo grande nella sua gioventù la gioventù in fondo è più solitaria della vecchiaia questa massima che ho letto in qualche libro mi è rimasta in mente e l'ho trovata vera è vero che qui gli adulti trovano maggior difficoltà che i giovani no non è affatto vero gli anziani hanno un'opinione su tutto e nella vita non esitano più prima di agire a noi giovani costa doppia fatica mantenere le nostre opinioni in un tempo in cui ogni idealismo è annientato e distrutto in cui gli uomini si mostrano dal loro lato peggiore in cui si dubita della verità della giustizia e di dio chi ancora afferma che qui nell'alloggio segreto gli adulti hanno una vita più difficile non si rende certamente conto della gravità e del numero dei problemi che ci assillano problemi per i quali forse noi siamo troppo giovani ma che ci incalzano di continuo sino a che dopo lungo tempo noi crediamo di aver trovato una soluzione ma è sempre una soluzione che non sembra capace di resistere ai fatti che la annullano ecco la difficoltà di questi tempi gli ideali i sogni le splendide speranze non sono ancora sorti in noi che sono già colpiti e completamente distrutti dalla crudele realtà è un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili e conservo ancora nonostante tutto perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo è impossibile costruire tutto sulla base della morte della miseria della confusione vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà pure noi partecipo al dolore di milioni di uomini eppure quando guardo il cielo penso che tutto si volgerà nuovamente al bene che anche questa spietata durezza cesserà che ritorneranno l'ordine la pace e la serenità intanto devo conservare intatti i miei ideali verrà un tempo in cui saranno forse ancora attuabili la tua venerdì 21 luglio 44 carachitti l'animo mi si apre alla speranza finalmente va bene sì davvero le cose vanno bene notizie strepitose è stato commesso un attentato alla vita di hitler e non da ebrai comunisti o da capitalisti inglesi ma da un generale tedesco di pura schiatta germanica che è conte e inoltre ancora giovane la divina provvidenza ha salvato la vita hitler che purtroppo sale cavata con qualche scalfittura e qualche scottatura alcuni ufficiali e generali del suo contorno sono rimasti uccisi o feriti il principale attentatore è stato fucilato è la prova migliore che molti generali e ufficiali ne hanno abbastanza della guerra e vedrebbero volentieri hitler andare all'inferno il loro scopo è di formare una dittatura militare dopo la morte di hitler con chiudere la pace con gli alleati armarsi di nuovo e dopo una ventina d'anni ricominciare la guerra forse la provvidenza ha rimandato appositamente il momento di toglierlo di mezzo perché è molto più facile e vantaggioso per gli alleati lasciare che gli immacolati germani si ammazzino fra di loro tanto lavoro di meno per i russi e per gli inglesi che tanto più presto potranno cominciare a ricostruire le loro città ma non siamo ancora a questo punto non voglio affatto precorrere gli eventi gloriosi però nota bene che quanto dico è la pura realtà che sta in piedi da sola una volta tanto non sto cianciando di alti ideali hitler è stato così amabile da comunicare al suo fido e devoto popolo che da oggi in poi tutti i militari debbono ubbidire alla gestapo e che ogni soldato il quale sappia che il suo superiore coinvolto in questo vile spregievole attentato deve abbatterlo senza ombra di processo fritz ha i piedi che gli fanno male a forza di camminare il suo ufficiale lo redalguisce fritz afferra il fucile grida tu vuoi assassinare il führer ecco la ricompensa uno sparo e l'altezzoso capo che ha osato fare una ramanzina fritz è entrato nella vita eterna o morte eterna finirà che i signori ufficiali se la faranno addosso dalla paura quando incontreranno un soldato dovranno dare un ordine perché i soldati oseranno dire e fare più di loro capisci qualcosa o sono stata troppo pasticciona non ci posso far nulla la prospettiva di potermi di nuovo sedere sui banchi di scuola in ottobre mi rende troppo allegra per essere logica oh la la non ti ho detto proprio adesso che non voglio essere troppo avventata nelle mie speranze perdonami non per nulla mi chiamano un fastello di contraddizioni la tua anna primo agosto 1944 carachitti un fastello di contraddizioni è l'ultima frase della mia lettera precedente e la prima di quella di oggi un fastello di contraddizioni mi puoi spiegare con precisione che cos'è che cosa significa contraddizione come tante altre parole ha due significati contraddizione esteriore contraddizione interiore il primo significato corrisponde al solito non adattarsi all'opinione altrui saperla più lunga degli altri avere sempre l'ultima parola insomma a tutte quelle sgradevoli qualità per le quali io sono ben nota il secondo è questo no no non sono nota è il mio segreto ti ho già più volte spiegato che la mia anima è per così dire divisa in due una delle due metà accoglie la mia esuberante allegria la mia gioia di vivere la mia tendenza a scherzare su tutto e a prendere tutto alla leggera con ciò intendo pure il non scandalizzarsi per un flirt un bacio un abbraccio uno scherzo poco pulito questa metà è quasi sempre in agguato e scazza l'altra che è più bella più pura e più profonda la parte migliore di anna non è conosciuta da nessuno vero e perciò sono così pochi quelli che mi possono sopportare certo sono un pagliaccio abbastanza divertente per un pomeriggio poi ognuno ne ha abbastanza di me per un mese esattamente la stessa cosa che un film d'amore per le persone serie una semplice distrazione uno svago per volta da dimenticare presto niente di cattivo ma neppure niente di buono è brutto per me doverti dir questo ma perché non dovrei dirlo quando so che è la verità la mia parte leggera e superficiale si libererà sempre troppo presto dalla parte più profonda e quindi preverrà sempre non ti puoi immaginare quanto spesso ho cercato di spingere via quest'anno che è soltanto la metà dell'anno completa di prenderla pugni di nasconderla non ci riesco e so anche perché non ci riesco ho molta paura che tutti coloro che mi conoscono come sono sempre debbano scoprire che ho anche un altro lato un lato più bello e migliore ho paura che mi beffino che mi trovino ridicola e sentimentale che non mi prendano sul serio sono abituata a non essere presa sul serio ma soltanto l'anna leggera è abituata e lo può sopportare l'anna più grave è troppo debole e non ci resisterebbe quando riesco a mettere alla ribalta per un quarto d'ora anna la buona essa non appena ha da parlare si ritrae come una mimosa lascia la parola all'anna numero uno e prima che io me ne accorga sparisce la cara anna non è dunque ancor mai comparsa in società nemmeno una volta ma in solitudine quasi sempre il primato io so precisamente come vorrei essere come sono lì dentro ma ahimè lo sono soltanto per me e questa è forse anzi sicuramente la ragione per cui io chiamo me stessa un felice temperamento interiore e gli altri mi giudicano un felice temperamento esteriore di dentro la pura l'anna mi indica la vita di fuori non solo che una capretta staccatasi dal greggio per troppa esuberanza come ho già detto sento ogni cosa diversamente da come la esprimo e perciò mi qualificano civetta saccente lettrice di romanzetti smaniosa di correre dietro ai ragazzi l'anna allegra ne ride da risposte insolenti si stringe indifferente nelle spalle fa come se non le importasse di nulla ma ahimè l'anna quieta reagisce in maniera esattamente contraria se ho da essere sincera devo confessarti che ciò mi spiace molto che faccio enormi sforzi per diventare diversa ma che ogni volta mi trovo a combattere contro un nemico più forte di me una voce si inghiozza entro di me vedi a chi ti sei ridotta cattive opinioni visi beffardi e costernati gente che ti trova antipatica e tutto perché non hai dato ascolto ai buoni consigli della tua buona metà ahimè vorrei bene ascoltarla ma non va se sto tranquilla e seria tutti pensano che è una nuova commedia e allora bisogna pur che mi salvi con uno scherzetto per tacere della mia famiglia che subito pensa che io sia ammalata mi fa ingoiare pillole per il mal di testa e tavolette per i nervi mi tasta il collo e la fronte per sentire sola febbre si informa delle mie evacuazioni e critica il mio cattivo umore non lo sopporto quando si occupano di me in questo modo divento prima impertinente poi triste e infine rovescio un'altra volta il mio cuore volgendo in fuori il lato cattivo in dentro il lato buono e cerco un mezzo per diventare come vorrai essere e come potrai essere se se non ci fossero altri uomini al mondo qui finisce il diario di anna il 4 agosto 1944 la polizia tedesca fece un'irruzione nell'alloggio segreto tutti i rifugiati clandestini e anche kraler o kefius furono arrestati e condotti in campo di concentramento tedeschi o dolandesi l'alloggio segreto fu perquisito e saccheggiato dalla gestapo in un mucchio di vecchi libri riviste giornali rimasti per terra elli e mepp trovarono il anna salvo alcune parti che non hanno interesse per il lettore il testo originale è stato stampato integralmente dei rifugiati si salvò solamente il padre di anna mentre kraler e kefius resistettero alle privazioni del campo di concentramento olandese e fecero ritorno alle loro famiglie anna morì nel marzo 1945 nel campo di concentramento di bergen belsen due mesi prima della liberazione dell'olanda all'olanda Grazie a tutti.